Allora, Simona Aymar, centrale della S Centallo, chiediamo un commento della partita di questa sera. Ma è stata una bella partita, è stata abbastanza facile per quanto invece ce l'aspettavo un po' più difficile perché sono ragazze giovani esperte, però siamo state brave, abbiamo giocato bene così l'allenatore è riuscito a far giocare tutte le giocatrici e chi era anche fuori è riuscito a dare il meglio di sé. E la prossima partita invece che sarà un po' più difficile? La prossima partita ci aspetta la squadra di Berra, vedremo se sarà come dicono la squadra che deve salire. Noi lotteremo con i denti stretti. Invece la Coppa, visto che in decimi avrete avversario Oleggio e la squadra di Serie C? E lo leggo anche oggi ha vinto, ha detto un set 25 a 4 l'ultimo set, è anche una squadra forte. E la Coppa di fatto ci ha servito per arrivare fino qua e fare così per la prima partita. Ma adesso il prossimo turno? Il prossimo turno è il primo novembre, tutti contenti e andremo per vincere ovviamente. Ok, grazie, ciao Simona, buona sera.